Carissimi, buongiorno o buonasera o buonanotte a seconda di quando ascolterete questo audio, questo video. Una delle tante date indicate dalla Torre di Guardia e sconfessate è quella del celebre 1975. Come si è comportata la società al di là di quell'ennesimo fallimento di questa data indicata, come dice lei, dal profeta, mettendola fra virgolette, Torre di Guardia? Come si è comportata? Ce lo racconta in questo interessantissimo libro James Penton, che è stato testimone di Geova per molti anni. Ovviamente molti di voi già scatterà subito l'antenna e l'allarme, attenzione, attenzione, ex testimone, apostata, apostata. Ecco, prova a fare uno sforzo, se tu non hai paura di essere nell'errore, non avrai nessun problema a leggere quello che segue. Dopo trarrai le conseguenze che credi. Ma purtroppo chi vive nella fase dell'innamoramento, mi sta capitando anche in questi tempi di parlare con chi vive ancora in questo incantesimo, purtroppo non hai presciuto sugli occhi, ma di più. Allora, James Penton dice appunto questo. France, presidente France, che due settimane dopo la morte di Knorr, il 7 giugno del 77, sarebbe divenuto il quarto presidente della Watchtower Society of Pennsylvania, spiattellò una nuova spiegazione del fallimento di Armageddon nel 75. A Toronto, nell'Ontario, nella primavera del 75, parlando davanti a un grande auditorio di testimoni, affermò che egli e i suoi associati erano fiduciosi riguardo a ciò che sarebbe accaduto nell'autunno di quell'anno. Ma un anno dopo, parlando davanti a un altro auditorio simile, nella stessa città, chiese retoricamente. Sapete perché nel 75 non è accaduto niente? Quindi, indicando chi lo stava ascoltando, tuo no. È stato perché voi vi aspettavate che accadesse qualcosa. Vallo a spiegare a chi ancora tutt'oggi sta pagando le conseguenze di operazioni chirurgiche rimandate, case vendute, attività professionali non avviate, studi mai intrapresi. Vallo a spiegare a loro. In altre parole, poiché Gesù aveva detto che nessuno avrebbe conosciuto il giorno e l'ora della sua venuta per giudicare il genere umano, i testimoni, i fedeli, quindi loro no, sono esentati da queste indicazioni di Gesù, i testimoni non avrebbero mai dovuto pensare di poter conoscere ciò che sarebbe avvenuto nel 75. Per quanto possa sembrare incredibile, Franz attribuì il fiasco clamoroso alla comunità dei testimoni e si comportò come se egli non avesse nessuna responsabilità al riguardo. Che dire allora? Nella predizione che il 75 avrebbe contrassegnato la fine di 6.000 anni di storia umana, era necessario fornire alcune spiegazioni sul perché il millennio non aveva avuto inizio in quella data. Così, Franz ragionò che il settimo giorno creativo di Dio, o sabato, periodo di 7.000 anni, secondo il vecchio calcolo del pastore Russell, non aveva avuto inizio se non dopo la creazione di Eva. Questo è stato un colpo di genio come la storia della generazione sovrapposta. E sono geniali, su questo bisogna riconoscere che ne sanno una più di qualcuno che non amiamo. Così la società avrebbe dovuto calcolare il tempo della creazione di Eva e non da quella di Adamo. E in base agli ultimi calcoli di Franz, nessuno poteva realmente sapere quando ciò era avvenuto. Ok, carissimo Franz, ma ti sei voluto dimenticare che la Torre di Guardia aveva già detto che Adamo fu creato nello stesso anno di Eva. Torre di Guardia, nel 15 settembre 68, pagina 559, per calcolare che appunto si trova l'uomo nel corso del tempo rispetto al settimo giorno dei 7.000 anni di Dio, dobbiamo determinare quanto tempo è passato dall'anno della creazione di Adamo ed Eva nel 4026, ma ancora più esplicitamente, svegliate il 22 aprile 69, pagina 14. Secondo la fidata cronologia biblica, Adamo ed Eva furono creati nel 4026. Nessuna differenza, tale da giustificare, carissimo Franz, buonanima, questa trovata ennesima. Vi auguro una buona giornata. Dio vi benedica. Grazie. Grazie.